Quella che vedete scorrere sotto è una nota AIFA. Queste note sono molto importanti e segnalano infatti a medici e specialisti i rischi potenziali dei medicinali. Se nel passato il mio dottore avesse letto una di queste, ora non sarei in questo stato. Ho quindi creato una petizione per chiedere al Ministero della Sanità e AIFA di creare una campagna informativa e di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza dei possibili danni di questi antibiotici.